Pace e bene a tutti, buon pomeriggio e bentrovati per questo nuovo evento del Festival Francescano sul tema della bellezza. Come non parlare di bellezza in un contesto di questa magnificenza che Bologna ogni anno ci regala. Bene, oggi abbiamo un evento condotto non da una persona per quanto competente, ma a tre voci, tre voci che si completeranno. Sulle tracce della bellezza, il tutto è gestito, coordinato da Andrea Monda. Ora, io qui ho una lunghissima bibliografia, una lunghissima biografia, mi ha detto sin dall'inizio, no, no, taglia, taglia, stringi, stringi, di semplicemente che io sono insegnante di religione, per quanto laureato come prima laurea in giurisprudenza, insegnante di religione, collaboratore a svariati progetti culturali, televisivi e non soli, non solo, tra cui collabora con Rai Educational, ora con TV 2000, ha scritto molti saggi su diverse testate cattoliche o meno, dico bene, della civiltà cattolica. In modo particolare, a livello di titolo più molto personale, non posso non ricordare i vari saggi scritti su Lewis e soprattutto su John Rahm, Raywell e Tolkien. D'altronde la bellezza è ciò che muove tutta la poetica tolkieniana. Bene, sulle tracce della bellezza vedete che Andrea è circondato da due ragazzi, Chiara Bartolucci e Valerio De Felice, entrambi di Roma come Andrea, Chiara diciottenne, ancora studentessa al liceo, che ha come professore appunto Andrea, mentre Valerio ha qualche anno in più, ma è un ex allievo di Andrea, oggi dottorando in filosofia. Io lascerei subito a loro la parola, voglio ricordare che oggi Andrea appunto è soprattutto il coordinatore, il presidente di Bombacarta, un'esperienza di esercizio e di riflessione sull'espressione artistica e creativa che prende spunto da pittura, letteratura, poesia e musica per confrontarsi con i suoi studenti sul tema della bellezza ed è per questo che oggi appunto è qui con i suoi studenti per fare questo esercizio anche con noi e per noi in questa piazza. Alcune note di servizio, non è caldissimo ma fa caldo, se volete è possibile prendere il cappellino del Festival Francescano all'Infopoi, poi come al solito troverete una cartolina, la cartolina sulle vostre sedie che voi potrete compilare e serve soprattutto a noi come feedback, il vostro feedback per poter dire l'interesse di questo evento, come è andato, come non è andato, non solo per l'evento in quanto tale ma anche per la logistica. Se avete la cortesia di compilarlo poi siete pregati di riconsegnarlo sempre presso l'Infopoint. Lasciamo allora la parola ad Andrea, a Chiara e a Valerio, li ascoltiamo e diciamo che bello. Dato che soprattutto Chiara e Valerio forse sono un po' più emozionati, iniziamo subito con un bel applauso di incoraggiamento anche a loro. Grazie Fra Valentino, grazie al Festival Francescano che ci ha invitato. Hanno invitato me in quanto però Presidente di Bombagarta, quindi devo dire due parole su questa realtà dal nome un po' inquietante, Bombagarta, ma non vi preoccupate. Noi cerchiamo di fare esplodere qualcosa ma soltanto la creatività che è nel cuore dell'uomo, convinti come siamo che, come diceva Chesterton, l'uomo è l'unica creatura che al tempo stesso è creatore. Quindi Bombagarta che fondamentalmente è un luogo in cui ci si incontra però da circa vent'anni, da più di vent'anni, è nata a gennaio del 1998 ad opera di un padre gesuita, Antonio Spadaro, attualmente direttore della civiltà cattolica. Per oltre vent'anni Antonio Spadaro ha creato un luogo di incontro, di incontro di persone appassionate rispetto alla bellezza e soprattutto all'arte, l'arte narrativa in particolare, quindi la letteratura ma anche la poesia e poi quindi anche il cinema, la musica e tutto il resto. In maniera molto libera, molto schietta, molto aperta, senza che ci siano professori che dalla cattedra debbano insegnare qualche cosa. A me questa cosa è piaciuta molto perché sono professore nella mia vita quotidiana, ogni mattina insegno religione a scuola, invece mi piaceva un posto che era molto simile alla scuola per certi versi, ma con una grande libertà, la libertà soprattutto di andarci per apprendere, per apprendere tutti insieme. Siamo convinti che il piacere della lettura, il piacere di entrare nel mondo dell'arte, delle opere d'arte dell'uomo può essere a volte un piacere solitario, ma è meglio quando diventa una gioia condivisa. Questo è un pochino lo spirito di Bombacarta e allora quando mi hanno detto vieni tu ma come in quanto Presidente, io da circa dieci anni sono Presidente di Bombacarta, quando mi hanno detto vieni tu ma ti vogliamo in quanto Presidente di Bombacarta ho pensato che la cosa più logica fosse portarmi insieme qui a Bologna alcuni esponenti di questa esperienza. Allora Chiara in realtà è appena arrivata dentro Bombacarta, sta annusando là, sta fiutando perché sta uscendo dal liceo classico, è ancora sotto le mie grinfie, le grinfie del professor Monda e quindi insomma è ancora diciamo alle prime armi. Invece qui a sinistra c'è Valerio De Felice che è attualmente il Vice Presidente di Bombacarta ed è stato mio alunno pure lui un po' di anni fa e adesso insegna all'università, si occupa di filosofia del diritto ma dentro Bombacarta diciamo è una delle anime più attive. Noi in genere alle riunioni usiamo molto anche la possibilità di fruire insieme delle opere d'arte quindi abbiamo un maxi schermo dove facciamo vedere scene di film, dove ascoltiamo musica, leggiamo i testi. Oggi non faremo così anche perché è vero che c'è un grande, ah ma quello sono io, ah c'è un, non lo sapevo, c'è un grande schermo che raddoppia le mani, però per motivi per disguidi organizzativi eravamo convinti che non ci fosse quindi non ci siamo portati quindi oggi faremo soprattutto, come dire, il focus sarà a partire dalla letteratura. dalla letteratura. Allora entriamo nel vivo, la bellezza, la bellezza. Fra Valentino ho scoperto che è un grande amante di Tolkien e quindi come dire mi ha preso in contropiede perché io ho dedicato molta parte dei miei studi alle opere di Tolkien che in quanto a bellezza, non solo bellezza creata da Tolkien ma è il tema, è uno dei temi di tutte le sue opere e allora deluderò fra Valentino ma oggi non parleremo di Tolkien, ma un regalo io lo voglio fare. Mentre lui parlava mi ha fatto venire in mente una frase che scrive Tolkien in una lettera molto bella, le lettere di Tolkien sono una lettura secondo me che vi consiglio di fare e dice a un certo punto l'uomo può essere redento solo rispettando la sua natura, cioè può essere redento da una storia commovente. Cioè dice che l'uomo praticamente è un animale narrante, l'uomo è un creatore perché non può fare altro che essendo stato creato da Dio creatore non può fare altro che continuare la creazione e quindi continuare a creare lui e lui. E quindi quando riceve in dono e ascolta una storia che entra nella sua vita e lo tocca allora questo è l'inizio della redenzione. Quindi io già qui mi potrei fermare a proposito di bellezza ma invece dobbiamo fare una conversazione. In fondo Bombacarta è il piacere di conversare insieme con persone che poi inevitabilmente nascono delle relazioni e delle amicizie molto profonde e quindi io faremo una cosa un po' a più voci. Dico soltanto un primo input, un primo stimolo. La bellezza in effetti mette un po' di timore, un po' di apprezzione. Tanto è vero che noi in questi vent'anni ogni anno mettiamo un tema annuale che poi viene sviluppato attraverso gli incontri un sabato al mese da settembre a giugno. Ma il tema della bellezza non l'abbiamo mai preso così di petto, insomma non abbiamo mai parlato della bellezza in quanto tale. Ovviamente la bellezza era una sorta di sottotema, di traccia nascosta che stava dentro tutte le nostre incontri di Bombacarta, però la bellezza fa un po' paura perché è un tema ingombrante, un tema massiccio ma al tempo stesso anche un po' sfuggente. Si può cadere nel soggettivismo, nel sentimentalismo e allora l'abbiamo un pochino evitata dal punto di vista quasi teorico, anche perché a Bombacarta le teorie non ci piacciono tanto. Non abbiamo un approccio come dire filosofico ma molto esperienziale. La parola magica di Bombacarta è l'esperienza, fare insieme l'esperienza. Siamo convinti che l'esperienza è quella cosa che noi facciamo, si dice io faccio un'esperienza ma al tempo stesso è l'esperienza che ci fa. Io sono Andrea Mondaro, ho 52 anni ma sono anche il frutto di tutte le esperienze che mi hanno cambiato perché l'esperienza è quella cosa che quando la vivi ti cambia, come quando fai un viaggio che alla fine del viaggio sei diverso da come sei partito. Se hai fatto un'esperienza puoi fare anche un viaggio dove non succede nulla perché non ti sei lasciato colpire dall'esperienza, non ti sei messo in gioco. Questo è già un po' il tema che andremo adesso a sviluppare e allora cominciamo un po' per approssimazione. La bellezza, ci sono venute in mente alcune affermazioni, alcune definizioni, alcune suggestioni che anche grandi spiriti, grandi pensatori e scrittori hanno detto, colpiti da questa cosa che colpisce che è la bellezza. Allora la prima cosa che ci è venuta in mente ovviamente è Dostoevsky, forse il più grande romanziere, con la sua famosissima frase che tratta dall'idiota, forse uno dei suoi romanzi più belli, la bellezza salverà il mondo. Ve lo vorrei porre quasi come domanda, poi magari alla fine possiamo ritornare su questo come quasi interrogativo, ma la bellezza davvero salverà il mondo? Bella questione. Allora lasciamola un attimino in stand by, poi magari Dostoevsky ritornerà e questa sua provocazione. Poi mi è venuto in mente quello che diceva, e dice ancora, Joseph Ratzinger quando era cardinale e diceva, è grande teologo, diceva che molto semplicemente la bellezza ferisce, la bellezza ci rende anche consapevoli che siamo vulnerabili, ci apre in qualche modo una ferita che però diventa una crepa salvifica e siamo tutti penso feriti dalla bellezza. C'è poi uno scrittore, un filosofo inglese, Roger Scruton, che ha dedicato di recente un saggio che si intitola proprio La bellezza, sulla bellezza, e dice che la bellezza in qualche modo si impone, non ci lascia mai indifferenti, ci provoca, ha una pretesa di imporsi alla nostra attenzione, esige di essere notata. Quindi la bellezza con questa sua evidenza, quasi un po' sfacciata, in effetti questo ci sembra anche abbastanza facilmente riscontrabile. Guardate qui, non possiamo non osservare, non notare, non essere colpiti dalla bellezza. Però vedremo che magari c'è anche un'altra forma della bellezza, più nascosta, più misteriosa. Allora su questo grinale noi ci muoveremo. Dicevo prima l'ambivalenza, l'ambiguità della bellezza. Pensate, noi quando, almeno noi occidentali, quando pensiamo alla bellezza, pensiamo forse all'idea greca della bellezza, l'armonia, l'armonia delle forme, la perfezione. Però noi siamo anche cristiani e forse il cristianesimo su questo ha da dire un'altra parola, una parola nuova. Al cuore del cristianesimo c'è un uomo crocifisso, che certo non è uno spettacolo bello da vedere. È come colui di chi noi ci preme il volto di fronte a questo spettacolo, dice Isaia. Allora com'è? Il volto di Cristo è il più bello dei figli di uomini oppure l'uomo del dolore? Che bellezza è? Ecco, spero di avervi provocato, di aver provocato anche Valerio e Chiara e passo la parola a Valerio proprio su questa ambiguità, su questa ambivalenza della bellezza. Ci salva o addirittura ci danna? Perché io penso che è difficile che la bellezza ci lasci indifferente. Arriva nella nostra vita, impatta nella nostra vita e può essere fonte sorgente di salvezza, di redenzione, di riscatto, di speranza, ma anche di disperazione e di perdizione. Tu che dici Valerio? Ma io rimarrei in questi toni di conversazione, direi appunto due cose prima di dare la parola a Chiara. Rimango, diceva Andrea, io studio filosofia, rimango proprio sulla soglia della filosofia perché non mi va di addentrarmici, per ricordare Sant'Agostino che si poneva un dilemma rispetto alla bellezza, ci chiedeva se la bellezza, si chiedeva, ci chiedeva se la bellezza ci avvicini a Dio o ci allontani da Dio. Non mi sembra questo il caso appunto di enunciare la purdottissima spiegazione che poi dà Agostino, però ci dà il suggerimento, ci lascia il suggerimento per poter intravedere due tipologie di bellezza, sicuramente una bellezza mondana e una bellezza spirituale, che però non sono due tipologie in opposizione, ma sono due tipologie di bellezza che si compenetrano, cioè quanto di spirituale c'è nella bellezza del mondo. Questo secondo me poi in realtà è centrale, anche in Agostino stesso. Poi le possiamo declinare in vari modi, come la bellezza nascosta e la bellezza più evidente, c'è la bellezza che si impone di essere notata, ma c'è anche una bellezza nascosta che si impone di essere notata e dipende dal modo in cui non la guardiamo. Poi sono tutte cose su cui torneremo. L'armonia, si diceva, l'armonia dei greci, il cerchio rispetto alla croce cristiana. Sono due forme diverse di bellezza. Una delle due bellezze è completa, è perfettamente circolare, l'altra invece rimanda a una incompletezza che però si può estendere. Però io, parlando di Agostino, mi viene in mente che lui, la sua vita è divisa in due parti, no? Una parte in cui forse è preda di una bellezza che di sicuro non è spirituale, ma che lo porta ad essere un uomo, potremmo dire, dissoluto. E su questo darei la parola a Chiara, non come esempio di donna dissoluta, però. Diciamo che parlando della vita di Agostino e soprattutto sulla prima fase della sua vita, quindi su una bellezza fondata sulla dissolutezza, mi viene in mente un libro letto recentemente grazie alla scuola, che è Il piacere di D'Annunzio, in cui c'è questo protagonista, Andrea, che è un dandy, è un giovane uomo che è sempre alla ricerca della bellezza, fonda la sua vita su questa massima, e qui cito il libro, Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. e questo, diciamo, era uno degli ideali dell'estetismo, appunto, movimento culturale di fine ottocento. E si può vedere, appunto, come... cioè, ciò che mi ha fatto pensare di più su questo libro, è che nell'esperienza del protagonista, lui inizia la sua storia sempre alla ricerca della bellezza, fondando la sua vita su opere artistiche, e appunto su una bellezza che, che appunto non è carnale, è un desiderio, è un desiderio solo fisico, ok? Da questo, poi, lui, a un certo punto del libro, si può vedere, che incontrerà questa donna, chiamata Maria, e non a caso, possiamo rivedere, da un certo punto di vista, anche la madre di Gesù. Possiamo vedere che lui cerca quasi di avvicinarsi ad una bellezza spirituale, ma alla fine non ci riesce, e alla fine del libro si ritroverà, come era all'inizio, sempre solo. E, secondo me, qui il problema non è la bellezza, ma è come ci approcciamo alla bellezza. E il problema di questo protagonista è, appunto, il modo narcisistico in cui lo fa. La questione, appunto, della bellezza narcisistica è una questione che ci impone a concepire, a pensare a come la bellezza sia in realtà una bellezza relazionale. In realtà, mi viene in mente, nella figura del Minotauro, che noi conosciamo, ovviamente, da un punto di vista della narrazione epica, però c'è un libricino di Friedrich Durmatt, intitolato per, appunto, il Minotauro, che è una piccola variazione sul tema. Lui immagina il Minotauro in un labirinto fatto solo di specchi, dove può osservare solo se stesso. Lui cresce guardando unicamente se stesso e quindi crede di abitare in un mondo di Minotauri. Vi leggo poche righe. Vide davanti a sé un'infinità di esseri fatti come era lui e, come si girò per non vederli più, un'altra infinità di esseri uguali a lui. Si trovava in un mondo pieno di esseri accovacciati, senza sapere che quell'essere era lui. Era come paralizzato. Non sapeva dov'era, né cosa volevano quegli esseri accovacciati tutt'attorno. Forse sognava soltanto. E anche se non sapeva cosa fosse sogno e cosa realtà. Balzò in piedi istintivamente per scacciare gli esseri accovacciati e, contemporaneamente, balzarono in piedi le sue immagini. Si rannicchiò e con lui si rannicchiarono le sue immagini. Non c'era modo di scacciarle. Oggi noi viviamo in una società dove non è che impera l'immagine, ma impera la nostra personale immagine. Siamo ossessionati dallo specchio, dal selfie, dalla riproduzione della nostra immagine, dalla divulgazione della nostra immagine, che sembra quasi che ci siamo dimenticati come si osserva l'altro. E questo è vero, si può dire, appunto con una butata rispetto al selfie, ma è vero ancora di più rispetto a quella che che è chiamata la filter bubble. Sui media, su internet, l'algoritmo ci rinvia sempre alle nostre preferenze. Sulla base delle nostre ricerche, ci rimanda sempre a ricercare e ci suggerisce sempre quello che noi avevamo preventivamente cercato. rispetto ai social, ci preclude la possibilità a un pensiero diverso dal nostro. Siamo come quel minotauro, siamo condannati a guardare noi stessi. E cosa succede? Succede che a un certo punto il minotauro nel labirinto arriva una fanciulla e lui la vede per la prima volta e per la prima volta vede qualcosa che è diverso da lui. Scrive Diuremat, il minotauro si alzò, era imponente, capiva improvvisamente che c'era qualcosa d'altro oltre i minotauri. Il suo mondo si era raddoppiato. Ecco, secondo me il suo mondo si era raddoppiato ci spinge a interrogarci il fatto che oltre appunto si parlava di D'Annunzio alla bellezza sensuale che quindi in primis bellezza del sé c'è una bellezza relazionale che chiede solamente di essere osservata che noi dobbiamo imparare a osservare. Sulla bellezza relazionale forse hai qualcosa da dirci. Grazie Valeria. Allora rifacciamo poi il punto. Il primo Agostino quello che si fa la domanda ma ci allontana o ci avvicina a Dio la bellezza? E vedete che potrebbero essere le risposte tutte e due buone. Allora D'Annunzio questo piacere sensuale una bellezza che diventa seduttiva seducente che alla fine però non può fare altro che condurre a sé in qualche modo è piatta è senza spessore è senza profondità allora forse una bellezza più a misura umana proprio perché in qualche modo sovrumana è quella che invece ci porta fuori di noi che ci fa allargare il nostro orizzonte e che è basata essenzialmente sull'incontro con l'altro quando il minotauro vede quest'altra persona diversa da sé allora fondamentale è l'elemento dell'altro dell'alterità che è fondamentale perché ci ricorda innanzitutto il nostro limite quindi la bellezza ha a che fare con il senso del limite anzi diciamo che ogni opera d'arte parte dal dal fatto che ci si limita pensate a un quadro diceva Chesterton appunto che la cosa più importante di un quadro è la cornice cioè il fatto che appunto noi non siamo tutto noi non siamo onnipotenti non siamo onniscienti e forse il gusto il piacere il fascino delle cose umane proprio sta nella consapevolezza del limite e nel gusto del limite nella saggezza che c'è nel limite però quanto è terribile oggi in questa società che prima ha descritto molto bene Valerio questo fare i conti con i propri limiti non viene accettato non si accettano i limiti diventano la fonte di un risentimento di una rivendicazione di una rabbia di un'obiezione di una contestazione allora in questa società dove appunto il narcisismo predomina e l'epoca dei selfie forse andare a leggere andare a confrontarsi con alcuni artisti che invece ci ricordano questa bellezza più a misura d'uomo proprio perché come dire Pascal diceva l'uomo supera infinitamente l'uomo proprio perché in qualche modo ci portano altrove ci portano magari in alto verso qualcosa di più grande di noi forse fa bene appunto andare a sentire alcuni autori alcuni artisti alcune voci che nel passato o nella contemporaneità ci indicano delle strade nuove inedite inesplorate una grande artista che noi di Bombacarta quasi la veneriamo anche per colpa anche per colpa del nostro fondatore Antonio Spadaro che è uno dei grandi esperti in Italia e abbiamo intitolato un laboratorio di lettura proprio a lei è Flannery O'Connor non so se avete mai sentito parlare è poco nota in Italia mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno che ha mai letto i racconti o i saggi di Flannery O'Connor è una scrittrice americana morta nel 64 giovane molto giovane e morta per una malattia anche terribile che ha scritto una manciata di racconti straordinari e lei è una scrittrice cattolica anzi lei sosteneva che essendo cattolica non poteva essere meno che un artista un cattolico non può essere meno che un artista non sono artista benché cattolico ma proprio in quanto cattolico diceva ha una visione molto forte anche della fede e del rapporto con la vita e con la vita artistica lei scrive dei saggi straordinari proprio sull'arte della scrittura ma il saggio da cui voglio prendere qualche citazione è un testo stranissimo alcune suore vanno da Flannery O'Connor e le portano la fotografia di una bambina piccola di 6-7 anni che era 8 anni che era morta qualche tempo prima era una bambina che stava in questo ospedale tenuto dalle suore Mary Ann questa bambina aveva un volto sfigurato da una malattia da un tumore che l'aveva proprio mangiato una parte del volto quindi diciamo non è che era brutta era mostruosa però questa bambina aveva una tale energia vitale una tale vitalità un tale entusiasmo una tale gioia di vivere che aveva colpito il cuore di tutte le persone di quell'ospedale e tanto più delle suore e allora vedete qui emerge un altro tipo di bellezza e Flannery O'Connor vede questa foto all'inizio dice no no perché le chiedono di scrivere una storia di Mary Ann un racconto sulla figura di Mary Ann di celebrare questa bambina Flannery O'Connor all'inizio dice no 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 non se ne parla proprio non voglio fare cose sentimentali perché il rischio ovviamente è altissimo pensate un po' una bambina morta bambina malata grave c'era il rischio di fare una cosa un po' ovino come dire pesante piena di sentimentalismo ed è proprio il nemico dell'O'Connor però poi le rimane questa foto in mano gira e rigira questa foto e lei definisce questo volto sfigurato di Mary Ann non brutto o deturpato ma incompiuto lei usa questo termine il volto di Mary Ann ed era anche diciamo giusta la definizione è incompiuto ma è quello sguardo dell'O'Connor che coglie questa cosa e allora lei riflette e arriva a una riflessione addirittura teologica tra l'altro era una grande ammiratrice di Teilhard de Chardin grande teologo gesuita che aveva messo al centro questo tema dell'evoluzione del cosmo che converge verso Dio allora l'O'Connor dice questa imperfezione non è come dire un marchio da subire tutti noi siamo imperfetti non solo Mary Ann in maniera evidente ma ogni uomo ha dei limiti che ne denunciano la nostra incompiudezza la nostra imperfezione ma appunto dice l'O'Connor non è un marchio da subire la conseguenza di una colpa originaria da espiare ma quella lì è una crepa salvifica è forte questa immagine mi viene in mente un verso di Patrick Cavanagh grande poeta irlandese che dice a un certo punto in una poesia che si chiama Avvento che è bellissima dice per una crepa troppo ampia non passa alcuna meraviglia e questo della meraviglia vedrete che è un tema che tornerà perché è strettamente collegato alla bellezza oppure se fossimo stati proprio in un incontro in un'officina di bombagatta avremmo fatto sentire una canzone molto famosa di Leonard Cohen Antem che dice a un certo punto che in ogni cosa there is a crack c'è una crepa c'è una spaccatura ed è lì che filtra la luce ed è lì che passa la luce ecco questa è la visione dell'Oconno la visione di questi spiriti molto secondo me alti Leonard Cohen Patrick Cavanagh che ci dicono che la nostra vita si è piena di ferite la bellezza ferisce ma queste ferite sono delle feritoie sono delle crepe in cui passa lo spirito in cui passa la luce allora tornando a riflettere su questo volto di Mary Anne Locke Conner intuisce che il compimento di una vita umana ancor più evidentemente incompiuta come quella di una bambina malata sta fuori di essa e non deve portare a una stoica sopportazione del limite in attesa della ricompensa celeste ma diventa una miccia creativa diventa in qualche modo l'inizio di una risorsa per costruire quel bene il bene è sempre in costruzione è sempre in fieri e l'incompiutezza è il segno quasi la molla e il male quindi può diventare paradossalmente una risorsa guardate la paradossalità di una scrittrice cattolica ma io penso che una scrittrice uno scrittore un artista cattolico se non è paradossale non è cattolico il Vangelo è il paradosso dei paradossi allora il male può diventare una risorsa e il bene può diventare una trappola perché infatti lei aveva rifiutato all'inizio di scrivere perché qual è il problema che la sensibilità che è una grande dote degli uomini può spesso diventare come dire fermarsi a un apprezzamento sentimentale che si ferma alla superficie allora dice l'Oconnor il bene troppo spesso ricercato in riccioli biondi e bianche più mangeliche può invece presentarsi ecco la bellezza nascosta in maniera strana inquietante con un aspetto grottesco con il viso sfigurato della piccola Merienne ma se uno ha lo sguardo dotato di visione un'altra parola fondamentale visione ecco che quel volto può apparire colmo di promessa questa è l'espressione dell'Oconnor colmo di promessa il bene quindi perde la sua estetica convenzionale l'estetismo la perfezione no? e si presenta all'occhio profetico sub contraria specie no? paralossalmente con le vesti della bruttezza dell'orrore però deve avere l'occhio profetico deve avere lo sguardo in fondo i profeti fanno questo vivono tempi terribili e forse anche i nostri di oggi da un certo punto di vista sono tempi terribili il papa dice bene che siamo nella terza guerra mondiale a pezzetti eppure all'interno di queste di questo scenario anche spesso tremendo pieno di orrore il profeta vede invece già il germoglio che sta per crescere sta per nascere scrive l'Oconnor guardate qua in questa pietà popolare le dice il sentimentalista si guadagna in sensibilità e si perde in visione il problema è quello della visione se sentivano meno altre epoche vedevano di più anche se vedevano con l'occhio profetico ora in assenza di questa fede siamo governati dalla tenerezza qui l'Oconnor parla di una tenerezza non è quella di cui parla il papa della tenerezza del tenerume della melassa dice siamo dominati siamo governati della tenerezza una tenerezza che da tempo staccata dalla persona di Cristo è avvolta nella teoria quando la tenerezza è separata dalla sorgente della tenerezza la sua logica conseguenza è il terrore finisce nei campi di lavoro forzato e nei fumi delle camera a gas come dicono i miei alunni i miei ragazzi sbam cioè guardate qui l'Oconnor la tenerezza ci porta alla violenza certo perché se noi viviamo con l'idea della perfezione dell'armonia tutto ciò che non rientra viene eliminato quello che il papa dice la logica dello scarto e le camera a gas sapevano come liberarsi delle scorie con il gas appunto allora vedete che l'Oconnor schiaffeggiando il lettore è un'espressione che lei stesso usa ci dice non è che vuole negare il calore del sentimento e della sensibilità ma ci invita ad acquisire un occhio profetico capace di visione l'imperfezione e la finitezza sono ineludibili caratteristiche della vita umana caratteristiche da accettare anzi da far fruttare perché noi dobbiamo vivere decifrando queste nostre incompletezze in attesa di compimento allora questa è la forza dell'Oconnor che mi ha fatto venire in mente proprio con questo aspetto come dire della della bellezza incompiuta della bellezza che ci rinvia alla fonte perché se la tenerezza perde la sua sorgente diventa addirittura violenza mi ha fatto venire in mente una pagina e mi fa piacere farla leggere a Chiara qui a Festival Francescano tratta da una delle più belle biografie di San Francisco forse non la conoscete è una stranissima biografia non dice quasi nulla dei fatti della vita di San Francesco perché è scritta da un poeta Christian Bobin conoscete Christian Bobin poeta francese ha scritto bene ha scritto un libro Francesco e l'infinitamente piccolo dove parte da Francesco infinitamente piccolo c'è appena nato adesso ascoltiamo questa pagina in cui si vede il piccolo bambino Francesco custodito amorevolmente dalla mamma e dice Bobin non c'è niente di più bello al mondo di questo allora vediamo una pagina di bellezza una pagina luminosa anche qui però paradossale che questo grande poeta scrittore francese coglie dall'esempio di Francesco vediamo due pagine di questa biografia la legge chiara che tra l'altro sta studiando anche per diventare attrice e io l'auguriamo dopo che ha finito il liceo classico ma quella è una formalità e a te la voce Bobin Francesco è l'infinitamente piccolo vai qui Bobin inizia con una descrizione della madre di Francesco e dice lei è bella no è più che bella è la vita stessa nel suo più tenero luccichio d'aurora non la conoscete non avete mai visto uno solo dei suoi ritratti ma l'evidenza è là l'evidenza della sua bellezza la luce delle sue spalle quando si china sulla culla quando vado a ascoltare il respiro del piccolo Francesco che non si chiama ancora Francesco che non è che un po' di carne rosa e grinsuosa un piccolo duomo più indifeso di un gattino o di un arboscello è bella in virtù di quest'amore di cui si spoglia per rivestirne le nudità di un bambino è bella per questa sollecitudine con cui ogni volta accorre nella camera del bambino tutte le madri hanno questa bellezza tutte hanno questa giustezza questa verità questa santità tutte le madri hanno questa grazia che rende geloso persino Dio il solitario sotto il suo albero d'eternità sì non potete immaginarla altrimenti che è vestita di quest'albero del suo amore la bellezza delle madri supera infinitamente lo splendore della natura una bellezza inimmaginabile la sola che possiate immaginare per questa donna attenta ad ogni movimento del bambino la bellezza Cristo non ne parla mai eppure è sempre con essa nella sua accezione vera l'amore la bellezza viene dall'amore come il giorno viene dal sole come il sole viene da Dio come Dio viene da una donna sfinita dai parti i padri vanno in guerra vanno in ufficio firmano contratti i padri hanno la responsabilità della società è a far loro il grande affare un padre è qualcuno che rappresenta qualcosa di diverso da se stesso di fronte a suo figlio e che crede in ciò che rappresenta la legge la ragione l'esperienza la società una madre non rappresenta nulla di fronte a suo figlio non è di fronte a lui ma è intorno a lui dentro fuori ovunque solleva il bambino sulle braccia e lo presenta la vita eterna le madri hanno la responsabilità di Dio è la loro passione la loro unica occupazione la loro rovina e al tempo stesso la loro consacrazione essere padre è interpretare il ruolo di padre essere madre è un mistero assoluto un mistero che non somiglia a niente un assoluto relativo a niente un compito impossibile eppure assolto persino dalle cattive madri anche le cattive madri si trovano in questa condizione di prossimità con l'assoluto di familiarità con Dio che i padri non conosceranno mai persi come sono nella smania di occupare correttamente il loro posto di essere all'altezza della propria posizione qui non mi trovo molto d'accordo perché secondo me il ruolo del padre viene un po' sminuito anche se non è vero perché anche il padre ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei bambini io sono l'unico qua papà quindi vai Chiara vai continua con la descrizione della madre e dice le madri non hanno una posizione non hanno un posto esse nascono contemporaneamente i propri figli non hanno come i padri un vantaggio sul figlio il vantaggio di un'esperienza di una commedia tante volte recitata nella società le madri crescono insieme al proprio bambino ed essendo il bambino dalla nascita uguale a Dio le madri si ritrovano nel tabernacolo appagate di tutto ignare di quanto le appaga e se ogni bellezza pura viene dall'amore da dove viene l'amore di quale materia è la sua materia di quale elemento naturale è composta la sua soprannatura la bellezza viene dall'amore l'amore viene dall'attenzione l'attenzione semplice rivolta al semplice l'attenzione umile agli umili l'attenzione vitva ad ogni vita e anzitutto a quella del cucciolo nella sua culla incapace di nutrirsi incapace di tutto tranne che di piangere primo sapere del neonato unica ricchezza del principe nella sua culla il dono dei suoi gemiti l'invocazione all'amore lontano gli urla la vita troppo distante ed è la madre che si leva e risponde ed è Dio che si destra ed accorre sempre pronto sempre attento malgrado la fatica fatica dei primi giorni del mondo fatica dei primi anni di infanzia di là viene tutto al di fuori il nulla non c'è santità più grande di quella delle madri sfinite per i panni da lavare la pappa da scaldare il bagno da preparare gli uomini reggono il mondo le madri reggono l'eterno che regge il mondo e gli uomini la futura santità del piccolo Francesco d'Assisi ancora imbrattato di latte e di lacrime dovrà la sua vera grandezza a questa imitazione del tesoro materno estendendo alle bestie agli alberi a tutti gli esseri viventi quanto le madri hanno da sempre inventato per il bene di un neonato d'altronde non esistono santi esiste solo la santità la santità è la gioia è la sostanza di tutto la maternità è ciò che sostiene la sostanza di tutto la maternità è la fatica superata la morte accettata senza di che non vi sarebbe gioia alcuna dire di qualcuno che è santo giustifica semplicemente dire che attraverso la sua vita si è rivelato un meraviglioso conduttore di gioia come di un metallo si dice che è buon conduttore quando lascia passare il calore senza dispersione o quasi come di una madre si dice che è una buona madre quando si lascia divorare dalla fatica interamente o quasi grazie Chiara questa è una bellissima pagina di Bob M che merita l'applauso tra l'altro quando dice questa cosa la fonte di tutto è la gioia allora ogni uomo in fondo non è che è grande lui ma è grande se diventa un conduttore di questa gioia questa è un'idea che sta molto dentro anche bomba carta non è che esiste l'artista anzi l'artista qui è pieno di sé del suo ego appunto è più soffoca e allora diventa centrale l'ispirazione il tema dell'ispirazione noi siamo grandi e siamo anche grandi artisti se ci lasciamo in qualche modo riempire trabocchiamo di una gioia di una forza di una bellezza che non è la nostra ma che noi soltanto ecco facciamo da canale da conduttore di questa bellezza io mi fermerei qui e lascerei la parte conclusiva agli ultimi minuti a Valerio ma mi ero dimenticato una cosa molto bella se ci pensate bene sul tema della bellezza incompiuta noi abbiamo un esempio di grandissima portata storica artistica in quel sommo artista che è Michelangelo Michelangelo ci dice che ha vissuto fino a quasi 90 anni ci dice proprio questa cosa qui pensate alle statue dei prigioni che dicono già tutta questa cosa qui ma pensate ai suoi grandi capolavori che sono le pietà le varie pietà che lui ha scolpito da giovanissimo fa la prima pietà quella che sta a San Pietro in Vaticano che noi chiamiamo la pietà di Michelangelo per eccellenza che in effetti è un miracolo di bellezza perfetta perfetta non puoi togliere né aggiungere nulla quando arriva verso i 90 anni l'ultima opera della vita di Michelangelo è un'altra pietà è la pietà di Rondanini come è particolare quella pietà è incompiuta come se tutta la vita Michelangelo abbia capito che non era quella lì la perfezione ma la perfezione paralossalmente sta nel togliere non devi appunto mettertici tu ma devi incominciare a togliere a spogliarti mi viene in mente appunto San Francesco in questo allora vedete questa idea della bellezza incompiuta che secondo me noi soprattutto se abbiamo il dono della fede cristiana non possiamo non sentire come qualcosa di profondamente vero certo allora bisogna avere lo sguardo profetico bisogna avere lo sguardo che coglie la meraviglia che ci circonda e cogliere quindi la dimensione del mistero io penso che con mistero e meraviglia siamo al cuore del discorso e lo facciamo però concludere a Valerio va bene? vai ti ringrazio dicevamo siamo andati avanti per tutto questo discorso appunto sulla bellezza incompiuta la bellezza nascosta beh era bellissima quella bellissima quella riferimento alle crepe che non è nella perfezione ci vorrei ritornare non è nella perfezione nella superficie perfetta che si trova la luce ma è dalle crepe che passa la luce noi e mi è venuto in mente sempre riprendendo il discorso delle due bellezze della bellezza evidente della bellezza minuta della bellezza che noi non scorgiamo il più delle volte mi è venuto in mente che noi viaggiamo io a me piace molto viaggiare per vedere luoghi meravigliosi e li troviamo belli ma giustamente li troviamo belli non potremmo non trovarli belli una delle citazioni iniziali diciamo si parlava della bellezza che non può non essere notata l'Himalaya le cascate del Niagara sono evidentemente belle non potremmo dire altrimenti e questo però mi porta in termini di bellezza nascosta a un piccolo racconto di Chesterton dove ci parla anche delle cascate del Niagara Chesterton riassume il racconto la storia di due fratelli di Paul e Peter che a un certo punto fanno un incontro appunto con il magico e gli viene chiesto a Paul e Peter di esprimere un desiderio Paul accettò l'offerta con una precipitazione da uomo d'affari spiegando che aveva a lungo desiderato di essere un gigante per poter attraversare a grandi passi continenti e oceani e vedere il Niagara o l'Himalaya in una passeggiatina pomeridiana Paul viene il suo desiderio viene esaudito ma quando giunse all'Himalaya trovò le montagne basse e insignificanti come il piccolo giardino di sughero davanti a casa mentre le cascate del Niagara non erano più grandi del rubinetto aperto nel bagno era un gigante la storia di Paul non va a finire bene perché preso per gigante poi viene anche ucciso e questa è la dura ma salutare storia di Paul invece Peter per quanto possa sembrare strano fece esattamente la richiesta opposta disse che aveva a lungo desiderato di essere un nano alto circa mezzo pollice e ovviamente lo diventò subito quando la trasformazione fu compiuta si ritrovò nel mezzo di una immensa pianura coperta da un'alta giungla verde e sulla quale ad intervalli sorgevano strani alberi con la testa a forma di un sole stilizzato da cui partivano giganteschi raggi di argento e con un grande cuore d'oro in mezzo in mezzo alla prateria sorgeva una montagna di una forma romantica ed impossibile di una tale rocciosa altezza e di tale maestosità da far pensare alla fine del mondo e lontano sul debole orizzonte poteva vedere il profilo di un'altra foresta più alta e ancora più mistica di un terribile colore cremisi come una foresta di fuoco eterno egli diede inizio alle sue avventure attraverso quella pianura colorata e ancora non ne è arrivato al termine l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo e la bellezza delle piccole cose ma come diciamo anche la capacità di sapere osservare le piccole cose qui poi rientrano anche tutta una serie mentre ne parlavamo prima di organizzare questa piccola conversazione diciamo che rientrano tutta una serie di questioni rientra la questione dell'umiltà del non doversi del non essere ecco appunto del non essere sproporzionati rispetto all'universo e mi viene in mente che poi in realtà la questione della bellezza nascosta è la questione che noi attraversiamo sempre nella nostra esperienza io mi ritengo una persona fortunata perché ritengo che intorno a me di essere circondato da persone che mi amino ma perché mi amino io francamente non lo so evidentemente vedranno in me qualcosa non c'è alcun motivo e tutti noi possiamo raccontare questa esperienza questa è la bellezza nascosta mi viene in mente l'inizio e la fine degli spietati quel film di Clint Eastwood per chi lo avesse visto in cui che inizia con un racconto sono poche parole di questa giovane donna attraente che in maniera insensata decide di contrarre il matrimonio con William Manning che sarebbe Clint Eastwood nel film un noto ladro ed assassino un uomo conosciuto per la famigerata brutalità e sregolatezza del suo temperamento alla fine del film che noi abbiamo conosciuto anche quest'uomo abbiamo conosciuto anche come l'ha cambiato l'incontro con questa donna che invece non vedremo per tutto il film perché è morta prima dell'inizio del film c'è una scritta che ci dice qualche anno più tardi la signora Ansonia Fitters cioè la madre di questa ragazza compì il difficile viaggio verso la contà di Hodgman per visitare l'ultimo posto dove riposava la sua unica figlia William Manning se n'era già andato da tempo con i suoi due bambini e non c'era niente sulla lapide che potesse spiegare alla signora Fitters perché la sua unica figlia avesse sposato un noto ladro e assassino un uomo conosciuto per la famigerata brutalità e sregolatezza del suo temperamento quello è sempre trovato estremamente poetico perché non c'è niente che possa spiegare alla signora Fitters per cosa abbia visto la figlia eppure la figlia nella crepa ha visto qualcosa che lo ha cambiato poi per altro e questo è il discorso che lega appunto il mistero ma soprattutto questo è il discorso che ci riporta alla meraviglia avevamo parlato del minotauro il minotauro nel momento in cui per la prima volta vede una figura diversa dai tanti minotauri riprodotti negli specchi il suo mondo si raddoppia però ha una sensazione di meraviglia per la prima volta vede qualcosa che non aveva mai visto e capisce io non sono solo o meglio non esistono solo minotauri conclude Chesterton il raccontino di prima sempre appunto sulla disposizione d'animo sulla capacità di osservare che non ci deve necessariamente non dobbiamo necessariamente andare a ricercare lontano ma basta rimanere seduti comodamente e lui dice tutto sta in una disposizione della mente in questo momento io sono in una disposizione molto comoda siederò tranquillo e lascerò che prodigi e avventure si posino su di me come mosche ce ne sono molti ve lo assicuro e sentite cosa dice e pensate rispetto anche a Dostoevsky la bellezza salverà il mondo conclude Chesterton dicendo il mondo non morirà mai per assenza di meraviglie ma solo per assenza di meraviglia grazie io finisco soltanto ringraziando anche perché la meraviglia l'umiltà è secondo me il segno di quando avviene la bellezza quando la bellezza accade quando un uomo si innamora di una donna la prima sentimento secondo me che prova è quello dell'indegnità dell'inadeguatezza tu sei troppo per me allora da questo senso di umiltà di mistero di grandezza può nascere appunto una bellezza sana una bellezza umana non disperante ma che incute speranze in fondo quell'uomo che poi ama quella donna come dice il grande Gabriel Marcel nel momento in cui le dice ti amo le sta dicendo tu non morirai ecco e con questo senso di speranza e soprattutto di gratitudine che è il segno come dire il segreto della felicità dice Chesterton il segreto della felicità è la riconoscenza noi con molta riconoscenza vi ringraziamo e vi salutiamo ringrazio